Ho avuto anche dei commenti? Si 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 Buoh mandatuno in spagnolo che non l'ho capito Si si Però c'è stato un altro che dice non vedo l'ora di andarci Perché poi Diciamo che la miglior propicità Siete voi Non ha propicità Allargati Mi stai ancora qui Stai quasi in alto E poi ti avanti Vedi? Si si Poi certamente Devi anche in alto cercare di andare A sistemare le cose Si si Rino siamo già partiti eh Senti come ti fai tornare Adesso che devo Aspetta Numero 6 Ti sono dietro Ok Parletta 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 ti conviene alleggerire un po' per caricare l'anteriore, inserisci, inserisci, ok, relinia, frena, quarta, muore il freno, muore il freno e allarga, frena, deciso, terza, frena, 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 ah, mi sembra che hai capito? Sì, 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 il turbone non ti conviene, anzi, non ce la fai fare piena come questo, ti conviene sempre alleggerire perché? Perché trasferisci un po' di scarico sull'anteriore, eh, frena, aspetta, 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 tra poco l'uno si è arrivato, è la prima? Sì, vedi che si è arrivato tra poco l'uno, sì, non sono giusto prendere la corda, la veloce che mi sembra, credo neanche la prima. bene? Bene? Vedi il frenale, gioco il freno, gioco il freno, gioco il freno, hai visto? Non è stato ricordato, hai segretato un po' e poi dopo si è arrivato in una frenata. Hai annullato un po' perché mi sembrava andare troppo piano. Qua, perfetta, inserisci e allargati, allargati. Quando sei tu, ti allarghi la macchina di uscita, vuoi dire che è la macchina, è un po' e poi sull'anteriore. Guarda, te ne metti da solo, voglio che te ne metti da solo, fatti questa anche. Giro avanti, giro avanti, aspetta la casa. Non c'è un casino stavolta, hai fatto un po' troppo in ritardo. Però vedi che hai la macchina di uscita, di vero. Allora, alleggerissimi, alleggerissimi. Ok, Norman, io ti ho sentito. Adelgezzi dentro. Adrista, adrista, adrista. Quarta. More il freno, more il freno. Vai col gas, vai col gas. Nell'altra. Frena, frena. Terza. Ma io ti ho contato di guarda. Era disattivato, però. Non vorrei che sia... Com'è la sembrata lì? Ma è molto meglio. Anche questa mi sembra. E gutta l'occhio alla... Inserisci, inserisci, inserisci. E allargati, allargati. Dai l'occhio al freno, se sei allungato, eh. Sì. Siamo avanti qua. 13. Terza. Frenati. Sì. 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 Più lentamente, eh. Allargati. Faccio la scorni. E non ci faccio meglio in questa strada. Ma tu come sei inizializzato la frena? E non ci faccio. E direi, come mi faccio aiutare dal freno anche a buttarlo un po' di... Bravo. Volevo dire. Sì, sì, non si vuole. Non riesci a spettare. Sì. Qua. Si la printa. Qui alleggerissimi passi all'anteriore. Dopo che la senti... Ancora. Anche qui alleggerissimi. Inserisci in curva. Bravo. Altre. Frena. Quarta. Quarta. Mola, 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 mola. Sei lotto leggermente lungo, eh. Lungo non con freno, ma lungo di inserisci. Quarta. Mola, 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 mola. Perchè non usano ti fai prendere da dare il gas, eh. Lo sai cosa c'è? Se vuoi te lo dico. Sì, ma... Tu mi hai visto la macchina davanti che la vuoi andare a prendere. È vero? No. Frena, frena, frena. Aspetta, aspetta, disse, disse. Ma io non riesco di sterco. No, non mi capito. No, no, no. Però, ok. Somma, se la stessa è di cosa dici. Sembra, eh, ma ogni tanto capisco, eh. Prena, deciso. Sperta. Un minuto, dentro, 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 dentro! Allora, alla, 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 alla! Fa un d****! Con gestione, testa e coda, alla uno. Fa un d****... Eeeee Sono già partito! Scusa. Mindy si è fatto a pregare. Hai appinto che si è rimasto fermo? Ja, non ho tirato abbastanza. Bene, c'è da dire che derlista da iniziamo a galleggiare le pressioni, eh... Mmh... Si... Prelici... Sì, vabbè, devono fare le mie... Sì, vabbè, adesso... Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cittadina di un peccato l'altro. Lui ce l'ho messo tu e io. Attacca. Adesso si sente comunque che il gatto è giusto anche lui. Ora andiamo a lavorare sui traiettori. Sì, adesso... Sette minuti. L'abbiamo fatto, ci passiamo fuori. E' quello anche che mi aiuta più freno perché la volta dietro ho pensato un po' meno. Sì. Norma mi senti? Bene. 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 Basta. Venta. Bene. Senti che... Ah, Dio, buono. No, per adeguati. Sì, sì, sì. Ma potete anche sapere se tu guarda, eh? Guarda. Inserisci, inserisci, inserisci. Vai con gas, vai con gas. Devi guardare anche la macchina, quindi non... Cioè, la guardia è alta però... No, giusto, giusto, giusto. Lavora su quel passo, ti devi sapere adattare la macchina. Chiudi. E allargati gradualmente. Freddo. Inserisci. Vai, vai. E allargati. Allargati, allargati, allargati. Allargati, allargati. Allargati, allargati, allargati. Grazie.